Parata di stelle questa sera a partire dalle ore 20 e 30 al teatro d'annunzio per la serata conclusiva della cinquantesima edizione dei premi internazionali Flaiano. Tra i premiati è atteso Fiorello per il miglior programma televisivo Viva Rai 2, premio migliore interpretazione maschile ad Alessandro Preziosi nella serie La vita bugiarda degli adulti, premio internazionale alla carriera al premio Oscar Taylor Hatchford accompagnato dalla madrina della cinquantesima edizione dei premi Ellen Mirren. Per la serie Le indagini di Lolita Lobosco premio speciale per l'interpretazione a Luisa Ranieri, per il giornalismo premio alla carriera a Cesara Buonamici, vice direttrice del TG5 e all'inviata speciale scrittrice, autrice e conduttrice Lilli Gruber. Per il cinema premio miglior regia a Marco Bellocchio per il film Esterno Notte, premio miglior interpretazione femminile a Sara Serraiocco per il film Il primo giorno della mia vita, premio per il musical Casanova Opera Pop a Red Canzian. La cerimonia verrà trasmessa integralmente ad Arete 8 con un collegamento a partire dalle ore 19.30. In caso di maltempo la premiazione si svolgerà al Cinema Teatro Circus, sempre a Pescara.